Io me lo auguro che abbia cambiato la percezione degli italiani del mondo in uniforme, tra l'altro scherzando ma dicendo una cosa vera, voi dovete credermi che la prima cosa che mi chiede chi non mi conosce quando gli dico che ha di fronte il capo di Stato Maggiore dell'Esercito è se conosco Francesco Figliuolo. E questa cosa mi riempie realmente di soddisfazione, non lo dico perché c'è una grande amicizia con Francesco, ci conosciamo da 40 anni, ma perché in realtà lui è veramente in questo momento la nostra immagine, la nostra prima linea ed è colui che assumendosi sulle sue spalle una grandissima responsabilità sta portando avanti il contributo che l'Esercito e le forze armali del loro compresso stanno dando a questa difficile e lunga campagna di contribuzione. In contrasto alla pandemia da cui tutti quanti noi speriamo di uscire, quindi sì, la risposta è assolutamente sì. Il Gianni Figliuolo sta contribuendo con la sua serenità perché anche lui ha uno sguardo sereno e consapevole a trasmettere una bella immagine dell'Esercito italiano. A lei dottoressa.